Ogni promessa è debito e in questo video vedremo quali sono le mie opzioni preferite su questa console che monta Anofficial OS e come vedremo valide anche per tutte quante quelle console con Gel OS caricato sopra. Subito dopo la sigla. E sì amici, come vi dicevo ogni promessa è debito. Nel video nel quale vi mostravo come installare Anofficial OS, un sistema basato su Gel OS portato avanti da quella community proprio per non lasciare indietro questa console, vi chiedevo 50 like proprio per portarvi questo video di configurazione. Grazie perché li abbiamo raggiunti e superati e il video è andato bene. E a proposito di like a 70 like a questo video ragazzi vi porterò qui sul canale il video per poter installare Arc OS su questa console. Mi raccomando fatemelo sapere con i vostri like appunto. Come vi dicevo queste sono le mie opzioni preferite, non è detto che siano le migliori ma sono quelle più adatte a me, al mio sistema di gioco. E allora vi chiedo proprio fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi ritrovate con queste oppure per voi qualcun'altra è migliore fatemelo sapere. Per qualsiasi problema vi ricordo che c'è la chat telegram di supporto linkata qui sotto in descrizione. Ragazzi vi chiedo già perdono da adesso ma vi dico che purtroppo non riesco a rispondere alle centinaia di email di richiesta di assistenza che ogni giorno ricevo anche nei direct di Instagram. Purtroppo non riesco a fare assistenza a distanza a tutti quanti o a rispondere a tutte le richieste di assistenza qui sotto nei commenti. Vi chiedo davvero perdono, non vi sto snobbando, credetemi ve lo dico con il cuore, ma mi è davvero impossibile, ci vogliono ore ed ore per rispondere a tutti e non riesco proprio. Detto questo se vi va di sostenermi con un like con l'iscrizione al canale se il video vi sarà piaciuto, ecco per me è importante, se vi va di sostenermi abbonandovi oppure con una donazione Paypal riuscirò a portarmi contenuti sempre migliori anche perché le console le devo acquistare, non me le regalano e fino ad ora sono quello che su YouTube vi porta più tutorial su come installare questi sistemi operativi proprio su queste console. Ripeto, per me è una forma grande di supporto. Vi chiedo perdono se mi sono dilungato per approfondire tutti i link qui sotto in descrizione anche per acquistare la console e la troverete anche scontata sul mio canale Telegram di offerte e codici sconto, sempre link in descrizione oppure cercate Jutec su Telegram. Ed eccoci, questa è la schermata principale della mia console. Non preoccupatevi di vedere questo tema semplicemente perché l'ho modificato io per permettervi di avere un contrasto migliore tra testo e immagini così da leggere meglio. Mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un tutorial su come andare a modificare manualmente il tema su unofficial OS. Prima cosa, tasto Start per accedere a tutte quante le impostazioni. Impostazioni di gioco, dunque primo menu, entriamoci all'interno. Aggiornalista dei giochi, importantissima funzione ragazzi perché qualora non aveste attivato l'auto check all'avvio della console stessa, quindi su tutte quante le ROM installate, ecco che avrete bisogno, una volta caricati i vostri giochi tramite computer, quindi presa la micro SD, messa nel computer, copiate le ROM, avrete bisogno di questa funzione per permetterle alla console di andare a riconoscere tutti quanti i giochi che avete appena copiato. Proporzioni video del gioco, qui potrete scegliere voi, io lascio automaticamente così da avere l'output sullo schermo basato sulle impostazioni di ogni emulatore, ma qui voi potrete andare a scegliere quella che più vi piace. Tenete anche conto ragazzi che un ufficial OS, sostanzialmente gel OS, che può essere installato anche su console che hanno l'uscita HDMI, di conseguenza questa funzione va a agire anche su quello, ovviamente questa console non avendo l'uscita HDMI, vi faccio vedere, non c'è da nessuna parte, ecco che non potrete andare a sfruttare pienamente quella configurazione, lascio auto così si adatta allo schermo che ho a disposizione qui sulla console stessa. Filtro bilineare, lasciatelo attivato, riavvolgi default, ridimensionamento default, salva carica auto, ecco qui questo è un menu importante, cioè voi potrete andare a scegliere se mostrare il menu di salvataggio istantaneo, vale a dire che qualora avviaste una ROM di un emulatore specifico, in basso a sinistra vi apparirà un piccolo menu che vi dirà se caricare l'ultimo salvataggio effettuato, poi vedremo all'interno re-retro arc come impostare anche i tasti per poter salvare. Incremental save status, io vi consiglio di lasciarlo attivato così sull'unico file ecco che andranno a scriversi le informazioni dei salvataggi altrimenti vi verranno creati più file di salvataggi, poi dipende da voi. Backup sul cloud, lo lascio disattivato perché non ho un servizio cloud, effetto shader, qui potrete andare a scegliere gli shader che più vi piacciono, quindi tutti quegli aggiustamenti dello schermo su determinate console, filtri e così via, filtro nessuno anche perché non ce ne sono caricati, riduzione latenza, questo è molto importante, apritelo ragazzi, vedete io ho impostato uno, voi potrete trovare default oppure nessuno, questo è il famoso frame skipping, vale a dire quando un gioco va lento, va un po' a scatti, sentite l'audio che va anche un po' a scatti, arrivate qui in riduzione latenza e settate i frame che devono essere saltati per velocizzarlo, io normalmente lascio uno perché mi basta, su alcuni giochi potrei mettere anche due però vi farò vedere che poi queste impostazioni possono essere personalizzate in base all'emulatore, qui lasciate tutto quanto in questo modo, latenza audio millisecondi 2 e così via, traduzione gioco con l'intelligenza artificiale avrete bisogno di un account, di un servizio e non ve lo faccio vedere, configurazione avanzata per sistema, ecco questo è importante, potremo andare a scegliere di ogni sistema presente qui sulla console la sua configurazione, se vado ad aprire ecco che appariranno praticamente tutte quante le impostazioni che abbiamo visto in precedenza, potremo scegliere anche qual è l'emulatore di default preso da retroarch, lui già mi fa vedere quelli che sono compatibili, alcuni funzionano meglio di altri, in base al gioco ecco potrete poi andarlo a selezionare, manualmente appunto e fare in modo che ogni volta si apra con quel core, quel determinato emulatore, opzioni, trofei per la gestione di tutti quanti i traguardi, bios mancanti, andiamolo a vedere, qui avrete una lista di tutti quanti i bios che la console rileva come mancanti, ma qui c'è da fare un discorso particolare perché ragazzi questi bios io li ho caricati, la console continua comunque a riconoscerli mancanti ma ci sono, quindi non vi preoccupate se caricati bios trovate ancora bios mancanti, normalmente normalmente funzionano, vi ricordo che il discorso di rom che non si avviano spesso e volentieri dipende da che cosa? Dipende proprio da come sono compilate le rom stesse, vi faccio un esempio, la playstation 1, su alcuni sistemi operativi basta il solo file bin o in un altro formato per avviare la rom della playstation 1, ecco perché va vista sempre la wiki di ogni sistema operativo, su unofficial os per esempio i giochi della playstation possono voler anche il file .cue, ok? È un file aggiuntivo che serve per farli riconoscere nella lista, spesso mi dite ma li funziona, qui no, il motivo è questo, allora su youtube troverete migliaia di tutorial su come andare a generare i file .cue, ci sono alcune console, alcuni sistemi che vi permetteranno anche di generarli proprio all'interno della stessa console, sulla MIU Mini Plus con ogni OS questo si può fare. Torniamo indietro, torniamo ancora indietro, il menu è finito, andiamo a opzioni, collezioni, giochi. Allora sistemi visualizzati, qui potrete andare a selezionare tutti i sistemi da visualizzare all'interno della vostra interfaccia, normalmente ragazzi compaiono solo quelli che al loro interno contengono delle rom e non quelli vuoti, quindi non mi chiedete perché non vedo gli emulatori, perché chiaramente non hai ancora copiato le rom all'interno delle cartelle predefinite, io li seleziono tutti compresa la cartella tools che è molto importante. Per le collezioni automatiche ne ho solo tre selezionati, perché sono collezioni che si generano automaticamente in base alle vostre azioni, potete visualizzare tutti i giochi presenti in lista, quindi non più divisi per emulatori, gli ultimi giocati, i preferiti, questi sono quelli che mi interessano, ma voi potrete abilitare anche tutte quante queste altre funzioni, due giocatori, quattro giocatori, questo si setta in retroarche e nelle opzioni dei joypad sotto bluetooth per esempio, ecco potrete andare a mostrare anche queste altre cartelle, se volete gli arcade, se volete gli arcade verticali, sì perché potete giocare anche in verticale e così via, a me non interessa e le tengo deselezionati. Qui potremo andare a creare delle collezioni personalizzate con delle impostazioni particolari, potrete andare a scegliere l'ordine di visualizzazione delle rom e dei sistemi, ordine alfabetico io tengo selezionati ma vedete produttore, hardware, anno di uscita, sistema di avvio, io per comodità vado a scegliere la cartella tools che tutto sommato è quella un po' che sta all'inizio di tutti gli emulatori, così li posso scorrere con più facilità, ma voi potrete scegliere quello che volete, quello anche a cui giocate di più, avvio dalla lista dei giochi, lo tengo deselezionato, gruppo di collezioni senza tema, lo tengo attivato perché potreste trovarvi degli emulatori, delle collezioni che non hanno un tema di fondo, ma le potrete visualizzare lo stesso, altrimenti non ve le fa visualizzare, mostra il nome del sistema nelle collezioni, sì questo è importante, i giochi nascosti, sì questo è importante perché delle volte ci sono delle collezioni con dei giochi nascosti, magari perché sulla vostra micro sd avrete nascosto voi per sbaglio o altro, così li riuscirete a vedere, torniamo indietro, avete visto si è riaggiornato un official OS perché siamo andati ad agire proprio sul menu delle opzioni delle collezioni, entriamo all'interno di opzioni di sistema, menu molto molto importanti, informazioni in questo momento non ci interessano particolarmente, non c'è nulla da settare, data e ora, possiamo ruotare la password root, cosa significa? Guardate io ho una password che era quella predefinita ma ho disattivato l'opzione, l'opzione root ci permette tramite ftp ssh di poter accedere alla console, ovviamente lì è chiesto un nome utente e una password, il nome utente è root e la password è proprio questa, se attivassi rotate root password significa che ad ogni avvio della console questa password mi va a cambiare, allora se sul mio computer ho settato tramite il software ftp una connessione diretta alla console, ecco che ogni volta dovrò andare a cambiare la password, per questo la lascio così, ma è chiaro che voi potrete selezionandola andare anche a cambiare e mettere la password che volete, luminosità, questo ve lo regolate voi, l'overlay lo lasciate attivato, audio device lasciate default ma potrete andare a mettere anche hdmi, in questo caso non c'è sulla console e così via, lasciate così, lasciate anche qui pcm, default cpu governor, io ho messo performance, non dico che è un overclock della console ragazzi, però potrete scegliere come gestire l'energia, io metto performance perché voglio sempre che la console vada al massimo power save e il risparmio energetico, potete abilitare il wifi, io lo lascio sempre abilitato, è chiaro che più è abilitato e più va a consumare energia, però per me è importante perché se volessi fare un aggiornamento, se volessi salvare sul cloud e altro, ecco che tenerlo attivato è una scocciatura in meno, power saving per il wifi lo vado a disabilitare, risparmio energetico, auto detect game card, auto detect games card, questo è importante ragazzi, tenetelo abilitato perché qualora andaste ad inserire una seconda scheda per le rom come ho fatto io, in questo modo verrà automaticamente rilevata, altrimenti leggerà sempre solo dalla schedina principale, quella del sistema dove si possono copiare anche le rom. configurazione automatica per gli hotkeys di retro arc, ecco ragazzi io in questo momento la lascio così perché sul manualetto della console ci sono i comandi per poter uscire, salvare e così via, ma disabilitandola potrete poi entrare in retro arc e andare a configurare i tasti, ve lo farò vedere dopo, per il momento comunque la lascio così, update branch la lascio su stable, cioè vale a dire che quando vado ad effettuare un aggiornamento mi va sulle versioni stabile e non sulle versioni beta, posso forzare l'update, controllare gli aggiornamenti in maniera automatica, iniziare l'aggiornamento. Danger zone molto importante, posso eseguire il backup delle configurazioni, ragazzi se vado a premere, non lo faccio in questo momento, vi faccio vedere che c'è la cartellina nella quale il backup verrà salvato, la cartellina si trova sulla seconda micro sd qualora l'aveste, in sostanza all'interno della cartella delle rom, vedete roms backup, ok? Quindi torniamo indietro, possiamo ovviamente ripristinarlo, possiamo andare a splittare, quindi a dividere i sistemi delle rom, effettuare un backup delle rom dividendole e poi possiamo andare a resettare tutte quante le impostazioni di retro arc in maniera di default. Torniamo adesso indietro al menu principale e passiamo alle opzioni interfaccia. Tema selezionato, vedete io ne ho più di uno, voi ne avrete soltanto uno, torno a dire fatemi sapere nei commenti, ma dovete essere in parecchi, se volete che vi mostri un tutorial come caricare più temi per la nostra console da poter cambiare, ora non li cambio per permettervi di vedere bene. Stile, lista giochi, io lascio automatico anche perché è l'unica disponibile, ma qualora cambiaste temi si cambierà anche quella. Lingua, italiano, qui la potete modificare, chiaramente modalità interfaccia io preferisco completa rispetto a kiosk e kid, così ho tutto quanto, driver menu retro arc, io lascio questo, posso anche andare a cambiare, mettere xmb eccetera. Cosa significa questo ragazzi? Questa interfaccia qui non andrà a modificare quella di retro arc, che si va a modificare dentro retro arc, ma quando giocate a un gioco e attivate gli hotkeys per poter salvare o altro, vi apparirà la finestra di retro arc, ma non su tutti gli emulatori perché ognuno ha la sua. Ecco, quella finestra vi apparirà secondo questo schema che voi andate ad impostare qui. Potremo scambiare i tasti A e B in base alla comodità, mostrare anche gli fps, io lo tengo disabilitato perché è fastidioso, mentre gioco vengono mostrati gli fps e mi danno fastidio. Può essere utile attivarlo per vedere effettivamente se è un gioco rallenta o meno e attivare il frame skipping, come vi ho fatto vedere prima. Salva schermo non ci interessa, stile transizione non ci interessa, il passaggio di un emulatore all'altro, potrete mettere delle transizioni, istantaneo lascio così per comodità, mostrare l'orologio, mostrare aiuto su schermo, quindi quando attiverete un determinato emulatore gioco vedrete quei tastini laterali in sovraimpressione per farvi capire come funzionerà, però ripeto poi ogni emulatore ha la sua impostazione che bypasserà questa. Mostra stato della batteria, io tengo icona e testo, questo si vede nella schermata principale, mostra prima i preferiti, lo tengo attivato perché nella lista dei giochi se ho settato qualche gioco come preferito non me lo dovrò andare a ricercare ma me lo ritroverò subito e me lo aggiungerà anche in quella cartella preferiti che vi ho fatto vedere poter essere abilitata nell'altro menu. Mostra i file nascosti, sì perché potrò andare a vedere anche quei file che iniziano per punto e underscore che sono residui ragazzi di file estratti, di rom estratte, ma non partono quei file e vedremo dopo nella sezione tools c'è una funzione per eliminarli, cosa che va sempre fatta anche perché occupano spazio. Mostra le cartelle sempre perché ragazzi vi ho detto che alcune rom per ps1 ma anche per altre console necessitano di più file, allora per non tenerli sparse nella cartellina rom sotto playstation per esempio creo un'altra cartellina e li metto lì dentro. Abilitando questa funzione ecco che nella lista io vedrò le cartelline e posso entrare poi all'interno per vedere i giochi. Mostra cartella principale va bene, prima del nome metto l'icona della lingua dei giochi così vado a capire subito se in italiano, se in statunitense, giapponese eccetera. Icona dei salvataggi istantanei e qui lascio tutto quanto disattivato. Torniamo un attimo indietro e andiamo adesso nelle opzioni controller bluetooth. Vi faccio vedere che qui possiamo abilitare il bluetooth e riconoscere i vari controller anche quello della playstation 1 e tanti tanti altri. Qui invece potremo andare a selezionare controller per controller, ecco cosa assegnare al giocatore 1, al giocatore 2 e così via. Guardate posso scorrere fino ad 8, posso mostrare l'attività del controller e anche il livello della batteria. Opzioni sonoro, ragazzi questo ve lo andate a settare voi, io vi dico solo che disabilito la musica dell'interfaccia perché è sempre in riproduzione, non è che a ogni avvio devo abbassare il volume per non sentirla, è fastidiosa, la disattivo praticamente sempre, ok? Questi sono solo gli effetti, non è l'audio all'interno del gioco. Opzioni rete, questa anche è importante perché qui potrò andarmi a collegare con il wifi, scegliere il nome della mia console sulla rete, quindi la identifico con questo nome, ecco se vado qui sopra SSID mi va a rilevare tutte quante le reti presenti nelle vicinanze, tutte quante quelle rilevabili e io poi posso andarle a selezionare e successivamente andare qui dove dice chiave wifi e andare ad inserire la password per quella rete. Molto importanti ragazzi anche queste impostazioni SSH e Samba perché ci permetteranno di accedere via FTP, via SSH con il protocollo Samba per esempio proprio alla nostra console da computer o anche da smartphone. Ripeto, andate ad inserire quei parametri che avete visto prima, root e password e attraverso questi protocolli potremo accedere. Se li tenete disattivati non si può, il resto lasciate tutto quanto disattivato. Torniamo indietro, andiamo qui, Moonlight Game Streaming, non ve lo faccio vedere, sono i settaggi per giocare in streaming con Moonlight, io non lo uso, non lo utilizzo e non vi saprei dire con precisione come funziona. Scarica Info Scraper, sezione importantissima, qui potremo andare a scaricare tutte quante le copertine per i nostri giochi. Ragazzi qui non mi dilungo perché ci ho fatto un video dedicato su come funziona, che servizio selezionare, nome utente e password, vi faccio vedere qui da impostare per poter poi usufruire del servizio. Andatevi a recuperare quel video, ve lo lascio qui sotto in descrizione oppure qui nelle schede. Torniamo indietro e torniamo alla schermata principale perché le opzioni sono finite. Passiamo adesso alla sezione Tools, importantissima. Anzitutto primo menu 351 files, vale a dire il file manager della console. Se io ci entro all'interno ecco qui che vedrò tutta quanta la lista dei file presenti sulla mia console, potrò anche accedere ai file di sistema eccetera. Per uscire tasto X e scorrere fino a quit. Attenzione in quella sezione non cancellate file, mi raccomando perché sono molto importanti e poi il sistema non vi funzionerà più. Fate sempre un backup come vi ho mostrato in precedenza perché tanto quello sta sulla schedina delle ROM così potrete riflessere il sistema qualora qualcosa andasse storto e ripristinare quel backup così da riavere tutto quanto come ce lo avevate. Torniamo un attimo nella sezione Tools, Cloud Backup, Cloud Restore, non mi ci soffermo, neanche support master per la gestione dei ports, quei giochi che sono stati pensati per una console ma poi ricompilati per altre eccetera. Passiamo adesso a runremove.underscorefiles. Questo è quel tool di cui vi parlavo. Qualora vedeste nella lista dei giochi file con il punto e l'underscore che poi non partono, sono quei residui di estrazioni da file zip, ecco che potrete utilizzare questa funzione per cancellarli tutti quanti oppure potrete farlo anche da Mac, da Windows con dei comandi particolari. Ma fatelo da qui visto che ci vorrà un po' di tempo, non vi preoccupate, però risparmierete tantissimo spazio. Qui abbiamo RetroArc sia in versione 32 sia in versione 64, lo apriamo dopo. Start PPSSPP è la funzione che ci permette di andare a gestire l'emulatore della PSP. Qui abbiamo quello per SCoom VM, poi abbiamo Team Master, la gestione dei temi, non lo vado ad aprire perché la console va in crash ed ecco perché vi proponevo un tutorial per caricarli manualmente. Ripeto perché questo sistema è pensato anche per altre console, non solo per questa, quindi alcune cose potrebbero non funzionare correttamente. Apriamo adesso RetroArc. RetroArc si presenta nella sua classica schermata che potremo andare a modificare ragazzi. Qui vi consiglio di lasciare tutto quanto in questo modo. Sostanzialmente RetroArc è già settato, ma alcune piccole cose potremo andarle a cambiare noi. Andando lateralmente switcheremo tra i vari menu. Ecco siamo in quello delle impostazioni. Driver, guardate abbiamo la sezione menu, questa è importante qualora voleste cambiare questa interfaccia. Quindi ci vado a cliccare dentro, adesso è impostata in questo modo, ma se vado a mettere XMB, torno indietro ragazzi sempre nel menu, tornando indietro, esco da RetroArc, attendo che si riavvii an ufficio all'OS e adesso guardate come andrà a cambiare RetroArc una volta che lo andrò a riavviare. Tools, vado a RetroArc, guardate ragazzi come è cambiata l'interfaccia e sembra quella della PlayStation. Ok? Ora siamo in questa schermata, ripeto non mi interessa più di tanto, andiamo nella schermata impostazioni, che è quella che avete visto prima. Drivers non ci interessa più, andiamo in video, qui abbiamo tutta quanta una serie di impostazioni che vi consiglio di lasciare così ragazzi, semplicemente perché non ha senso modificarle su una console come questa. Magari su altre console qualcosina può essere modificata come i driver, portarli sui Vulcan, qui per esempio in driver, vado in video, qui c'è GL, ma potrete cambiare in Vulcan quando presenti per aumentare le prestazioni. Ma quello che vi voglio far vedere, neanche audio, è la sezione input, molto molto importante. Entriamoci dentro, qui potremo andare a modificare tutto quanto ciò che riguarda i controller. Anzitutto imposto il massimo numero di utenti in due, perché sostanzialmente ci giocherete in due, ma potrete impostare anche più utenti, di conseguenza significa che potrete andare anche a settare più joypad, ma in realtà gli ingressi sono due e le personalizzazioni per quelli bluetooth si trovano dall'altra parte. Qui abbiamo altre impostazioni, ma io voglio scorrere sotto fino alla configurazione proprio dei comandi. Anzitutto andiamo qui, guardate, hotkeys, entriamoci dentro. Gli hotkeys che sono? Sono le configurazioni per i menu, no? Potremo scegliere le combinazioni di tasti per attivare un determinato menu. Vedete? Tornare al menu, uscire con una combo per controller, uscire direttamente, close content, ma se vado sotto, quello che mi interessa a farvi vedere, per esempio, è quello dei salvataggi. Vedete? Save state, load state, quindi salvare e caricare. Potrete impostare delle combinazioni di tasti per ogni menu, così da avere tutto quanto bello e pronto. Mentre per la configurazione dei tasti dei joypad scorrete sotto, vedete, porta 1 e porta 2, perché abbiamo settato due controller, 1 e 2. Ok? Ci entriamo dentro e qui possiamo andare a settare tutti quanti i tasti, perché non è scontato, ragazzi, che i joypad funzionino automaticamente in ogni emulatore, ognuno ha le sue funzioni. Qui settiamo quelli di default. Ricordatevi anche nelle impostazioni di disattivare l'opzione di autoconfigurazione di retro arc. Vi ricordate, addirittura, guardate, qualora avessimo una pistola, potremmo andarla a configurare qui. Torniamo indietro, per il resto non ci interessa altro. Qui addirittura potremo in retro arc andare ad importare tutti i giochi che abbiamo e farli partire da qui dentro, ma non ci interessa, perché comunque sia il sistema di base è batosera che va proprio a gestire con retro arc tutti quanti gli emulatori nella sezione di emulation station. Perfetto amici, spero davvero che il video vi sia piaciuto, che abbiate potuto configurare nel migliore dei modi queste console. Vi invito anche a recuperare il mio tutorial su come installare gel os sulle 353wp eccetera, è molto molto interessante, sbloccherete tantissimi emulatori. Like, iscrizione al canale, torno a dire sono la forma migliore di supporto. Se vi va di supportarmi anche con una donazione paypal per portarvi contenuti migliori, ecco, trovate i link qui sotto in descrizione. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale youtube. Grazie a tutti.